Allora è iniziata la festa, è in piscina ma io non farò il bagno, vedete c'è Giulia qua, qui c'è Priscilla, firma, tutti qua Dai mi morì Guardate questo uomo E' stato devastato dalle zanzare in maniera... Allora Matti altri 5 minuti partiranno, c'ho le cappole, per 5 minuti partiranno le lezioni di acquagin by Giulia Morici Ha un passo base atomico, se Giulia mazzia mi raccomando Ma Giulia, guardate l'acqua, guardate Ragazzi acquagin, tutte le mattine Spandipanni questo, la mossa spandipanni Spandipanni Scappiamo, scappiamo, la testa è bella, la piazza è merda, porca madre, porca madre! La musica, l'estate, la panza, la trigna, con te tutta la notte, mi ubriaco a mezzia. DJ Pier, ma come ci va dentro? Cassetta, cassetta, 2019, 2019 ancora con la cassetta va, Pierna. La musica, il giupito se spiazza ragazzi. Nel pezzo della donna è l'abbondanza Nel pezzo della donna è l'abbondanza Noi di MarketTube quando decidiamo una cosa la facciamo E vi avevamo chiesto una penitenza perché Priscilla aveva perso Ma quando la facciamo non la facciamo da soli, la facciamo tutti assieme Penitenza! Sentore di penitenza! Ma chi l'ha scelta? L'avete scelta voi? Sì ma ti ricordo di una vita? Ma la facciamo perché Priscilla poi non ci fa andare in vacanza E ci fa fare i vlog quindi Merita la penitenza! Penitenza! Bene! Dai Cato! Siete pronti? Siete pronti! Siete pronti! Grazie a tutti.